Palazzo Uedekin da Piazza Colonna alle fondamenta su quello che era il Tempio di Marco Aurelio. Nel Cinquecento al posto del palazzo c'erano case modeste ma nel Seicento i Ludovisi le demolirono e costruirono un unico edificio. Il palazzo cambiò spesso proprietari e destinazione d'uso e, in particolare, nell'Ottocento ospitò dapprima le poste pontifice e, dopo Porta Pia, il Ministero dell'Educazione del Regno. Nel periodo precedente alla destinazione a Palazzo delle Poste, Papa Gregorio XVI fece ricostruire completamente il palazzo con il bel portico dalle dodici colonne ioniche che erano state rinvenute a Veio negli scavi del 1831. Nel 1876 fu acquistato dal banchiere Uedekind che ne rinnovò l'aspetto e gli lasciò il nome. Nel 1925 passò all'Inps che ne detiene ancora la proprietà. Da ricordare che tra i vari inquilini del Novecento, oltre circoli e associazioni, ci fu la redazione della famigerata rivista La difesa della razza dal 1938 al 1943, tra il 1943 e il 1944, la sede del partito fascista repubblicano, per una sorta di contrattasso dopo la fine della guerra sarà per un periodo sede del comando francese delle truppe alleate. Dal 1945 ospita la redazione del quotidiano romano Il Tempo. Da ricordare che sotto quel porticato ebbero successo anche locali destinati al ristoro e all'intrattenimento come il Caffè Sommariva, 1880, con le sue cameriere in costume bavarese o il ristorante, Fagiano e la taverna Fagianetta nella prima metà del Novecento. Tra il 1937 ed il 1940 il palazzo ospitò anche la Galleria di Roma e nel 1937, il governatore Bottai inaugurò una importante mostra con artisti come Boccioni, De Chirico, Morandi e Sironi. Anche oggi c'è una collezione a Palazzo Oedekind, sono le opere di arte contemporanea di proprietà dell'Inps. Testo e foto di Lilli Tic in Memorie di Roma. Audio per i povedenti, Progetto Cultura, di Eteper.